Endless Love, trama ed anticipazioni della nuova sopopera turca di Mediaset Terra Amara volge al termine e Mediaset ha già scelto una nuova sopopera turca destinata a fare compagnia ai telespettatori tutti i pomeriggi. Si tratta di Endless Love, che racconta la storia dei due protagonisti Kemal e Nian, che vivono nel desiderio di una storia d'amore impossibile. Tutto inizia quando Kemal, che appartiene ad una famiglia di umili origini. Kemal incontra Nian sull'autobus in un giorno di pioggia, e da quel momento i due iniziano a frequentarsi segretamente e tra loro sboccia l'amore. Nian appartiene ad una famiglia ben diversa rispetto a quella di Kemal, ricca e rispettata a livello sociale. I due iniziano una storia d'amore ma tutto cambia quando la madre della ragazza le impone di sposarsi con Emir, un uomo ricco che da sempre è innamorato di lei. Infatti la famiglia di Nian sta versando in cattive acque dal punto di vista economico, e questo matrimonio potrebbe risollevare la situazione. Nian non può opporsi al volere dei suoi parenti ed accetta il matrimonio, separandosi per sempre da Kemal che deve accettare questo duro colpo. Dopo cinque anni Nian e Kemal si incontrano e tutto è cambiato nelle loro vite, comprese le loro personalità, ma Nian è ancora intrappolata in un matrimonio infelice con Emir che non ha mai imparato ad amare. Presto potrebbe scoccare di nuovo la scintilla tra i due protagonisti. La sopopera Endless Love, conosciuta in Turchia con il nome di Karasevda, è andata in onda in patria dal 2015 al 2017 per due stagioni. Di conseguenza si è già conclusa in Turchia. In Italia invece la serie dovrebbe avere inizio subito dopo la fine di Terra Amara, prendendo posto nei palinsesti. Salvo stravolgimenti da parte di Mediaset, quindi, sarà sufficiente attendere le prossime settimane per assistere al gran finale delle vicende di Zuleia ed assistere alla messa in onda di Endless Love. Quest'ultima sopa è composta da 74 episodi della durata di oltre due ore ciascuno, che però saranno tagliati e riadattati per la messa in onda pomeridiana di Canale 5, permettendo quindi ad Endless Love di durare per diversi mesi. Per quanto riguarda il cast, i telespettatori faranno la conoscenza di Nesli Anatabul nei panni di Nian e di Burakoscivit nei panni di Kemal. Kanur Gancioglu invece interpreterà Emir, e i fan di Terra Amara ritroveranno Kerem Ali Zikfekeli nei panni di Ayan. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante questa sopopera e vi farà piacere seguirla al posto di Terra Amara? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.